Ciao a tutti a tutti, è finalmente tornato il video preferiti del mese, so che ho saltato quello di agosto ed è anche per questo che ho da farvi vedere un po' di cose, soprattutto farvi sentire un po' di canzoni perché ne ho scoperte parecchie che mi piacciono tantissimo, come sempre sapete vado pazza per le canzoni e mi scuso già da ora, se c'è qui se vedrete più che altro la televisione accesa che è il riflesso dello specchio ma è orario uomini e donne che non posso fare a meno anche se sto girando il video di ogni tanto buttare un occhio comunque iniziamo subito, come sempre, prima domanda canzone del mese che mi sono anche scocciata di dirlo ormai, non è una ma in realtà penso che questo video preferiti sia quello con più canzoni preferite la prima, che è quella che mi piace più di tutte, è entrata nella mia top 5 delle canzoni della mia vita addirittura è la canzone del nuovo film Bridget Jones Baby e è di Ellie Goulding, è già questo top e si chiama Still Falling For You, quindi ancora innamorato di te, ve la faccio sentire e questo non era niente, questo era solo il ritornello ed è il pezzo che più mi fa emozionare non lo so, la prima volta che l'ho sentita, proprio i brividi tra l'altro, visto che ancora non l'ho detto su Youtube, questo sarà l'ultimo video con questi capelli qua vabbè questo è il mio colore, insomma, naturale e poi c'è sta qui sotto ancora il biondo ecco domani vado dal parrucchiere, verrete con me perché farò un vlog quindi per chi fosse curioso di vedere magari i capelli, come li farò perché farò una cosa proprio cambio radicale e magari seguite solo questo canale, andate a seguire anche quello dei vlog perché lì vedrete in anteprima tutti i capelli e anche tutti i vari procedimenti l'altra canzone che penso insieme alla prossima che vi farò sentire dopo di questa è una delle canzoni più sentite nell'ultimo periodo perché ha un ritmo molto orecchiabile, però comunque è spaziale la canzone si chiama Cold Water ed è di Mayer Laser e Justin Bieber insomma, questo è spaziale, io non ascoltavo mai questo tipo di canzoni mi sono ritrovata a sentire solo queste a parte questo la prossima la conoscerete tutti, soprattutto per chi ha visto B e Mays, credo siano stati vabbè gli ultimi comunque su MTV è la canzone penso del 2016, che mi ricorderà sempre il 2016 ed è Day non prendetemi in giro per come leggerò il nome di questa band perché non so, comunque The Chainsmokers The Chainsmokers? Non ho idea comunque si chiama Closer anche questa non so perché mi ricorda molto forse come il ritmo a quella precedente che vi ho detto di Justin Bieber l'altra che mi piace tantissimo, in realtà sono due di questa cantante cioè una in realtà sarebbe di David Guetta e questa cantante però praticamente canta solo lei, lui mixa quindi stiamo parlando di Zara Larson This One's For You, che è insieme a David Guetta e l'altra si chiama Lush Life vi faccio sentire prima quella con David Guetta cioè se vedete c'hanno tutto lo stesso ritmo ma sono bellissime e vi faccio sentire l'ultimo poi prometto che non sentirete più canzoni e ve li lascio tutti qua sotto come vi ho detto prima quindi queste erano tutte le canzoni magari me ne sono scordata anche qualcuna ma non posso stare tutto il video a fare senti canzoni poi il film barra telefilm del mese come saprete i telefilm ancora non sono iniziati avevo provato a iniziare il Trono di Spade o non so come si chiama in inglese questa serie Game of Thrones, credo sia quella però non mi ha entusiasmato o meglio forse ho trovato un link che non si vedeva bene e quindi non riuscivo a seguirla con passione però da come me l'avete spiegata perché ho chiesto consiglio anche a voi soprattutto su Twitter dove io scrivo sempre un sacco di roba quindi seguitemi se ancora non lo fate e avete Twitter molti mi hanno detto guarda lei è super appassionante all'inizio magari è un po' strano però è bello a parte quella che ho tralasciato poi magari la riprenderò perché io sono un po' così ho riniziato a vedere H2O adesso mi prenderete e mi sfotterete per sempre ma sapete il mio amore per le sirene quanto mi piacciono come creature mitologiche ho trovato il link e non potevo non iniziare a riguardarle il link l'ho trovato su guardaserie visto che sono sicura ormai vi conosco come lo chiederete però a parte questo tutte le mie serie tv solite quindi The Vampire Diaries che forse imparerò un giorno a pronunciare Once Upon a Time, Teen Wolf e naturalmente la top dei top Orange devono ancora riniziare quindi per questa volta vi dirò soltanto i film e ne ho visti appalate cioè ve ne posso consigliare 50.000 se mi seguite su snap anche qua dico un sacco di roba quindi seguitemi ho visto La rivincita delle bionde primo e secondo film mi piace più il primo perché il secondo secondo me è un po' facciamo giusto perché lo dobbiamo fare ho visto La coniglietta di casa che è un film sempre un po' stile La rivincita delle bionde in realtà mi sembrava molto simile come storia di base e questi due film li ho visti tutti e due grazie a Kevin quindi lo ringrazio perché sono molto carini cioè non sono di questo grande spessore intellettuale però insomma è così per passare il tempo ho visto e mi sono innamorata follemente infatti adesso è uscito un altro film che si chiama Trafficanti e già qui avrete capito di cosa sto parlando che è dello stesso produttore di questo film che in realtà ne sono tre primo, secondo e terzo Una notte da leoni splendido cioè vi ammazzate di risate quindi questi sono stati quelli fondamentali poi ne ho visti alcuni che non mi sono piaciuti ho visto io prima di te che in realtà me l'aspettavo molto meglio sono sincera infatti adesso a breve vado a comprare il libro perché sono curiosa poi ecco se a voi è piaciuto come la vita questo non lo posso sapere naturalmente ognuno poi ha i suoi pareri ma mi sono scordata di dirvi il film più importante che ho visto c'è tutta la saga perché adesso l'hanno messa su Sky di Star Wars cioè la meraviglia io non l'avevo mai vista e mi sono pentita di non averlo fatto prima quindi se non l'avete ancora fatto date un'occhiata ai film perché sono bellissimi il mio preferito personalmente è il ritorno dell'oggetti perché non lo so è quello che mi ha catturato di più ma anche l'ultimo mi è piaciuto tanto il risveglio della forza il profumo del mese è questo che ho comprato da Primark che vi ho fatto vedere anche nel video questo profumo qua che si chiama Beautiful come potete vedere anche se è piccino cioè notare ma ha un profumo buonissimo ogni volta che lo metto tutti mi chiedono ma qual è? ma qual è? ma qual è? io non c'è insomma come spiegare io perché che io vado a Dio ho preso la Primark scarpe del mese visto che il freddo è cominciato sta cominciando adesso che è a fine settembre io comunque all'inizio settembre ho indossato le scarpe aperte ancora e mi sono innamorata di queste che sono quelle che ho preso su Asos e cerco di farvele vedere in modo più normale possibile sono queste fatte così tipo alla schiava un po' e le ho prese appunto da Asos se non l'avevo ancora detto le ho pagato 15 euro niente sono comodissime freschissime soprattutto la cosa di cui avevo paura è che si rompessero in realtà le ho messe tutti i giorni e sono ancora perfette naturalmente di queste non posso ritrovarvi il link perché Asos cambia continuamente i prodotti vanno subito sold out e quindi troppo magari ci stanno altri tipi prodotto beauty ne ho da farvene vedere quattro partiamo da sempre un acquisto di Londra che ha questo illuminante della becca tra l'altro non fate caso le unghie devo andarle anche a rifare è il moonlight ve lo mostro più da vicino perché adesso che ho questa fotocamera posso farvi queste riprese un po' più da vicino questo illuminante mi fa letteralmente impazzire è quello che ho anche oggi c'è look at that glow bellissimo mi piace tanto e è proprio un colore bello freddo eccolo qua yes ve lo swatcho anche perché magari poi non ci credono la gente no oddio l'ho messa sulla mano sbagliata perché vi posso girare ma molto poco questo poi vi faccio vedere questa tinta che ha quella che ho su oggi che è bellissima a parte messa un po' la cavolo che è questa qui di Aliexpress l'ho presa da Aliexpress cioè rendiamoci conto la marca si chiama Dragon però ce ne sono vari e il tubetto è sempre lo stesso cambia un po' le scritte i numeri eccetera comunque questo qua è il numero 22 però non posso assicurarvi che se andate a un altro rivenditore Aliexpress il 22 è associato a questo colore quindi insomma io ve lo faccio vedere è questo colore qua anzi dalla telecamera sembra leggermente più come dire più chiaro in realtà un pochino più sul vinaccia però mi piace molto ci ho anche già mangiato ci ho tolto adesso un po' qua anche un first impressions facciamo un po' mi schio così poi ho ritrovato questo ombretto di Paola P che mi avevano regalato a un evento praticamente ed è il numero 21 Gange o Gange non saprei come dirlo leggete da voi ed è uno dei miei colori preferiti e sta diventando uno dei miei colori preferiti per quanto riguarda gli ombretti bellissimo mi piace un casino è un color mattone bello da impazzire cioè guardate ditemi se non è la bellezza anche questo ve lo swatch ci siamo ci siamo ormai impattaccate guardate è bellissimo io lo utilizzo tranquillamente o nella piega o su tutta la palpebra ultima cosa beauty sempre per quanto riguarda gli ombretti perché mi sta riprendendo la passione degli ombretti a parte oggi che non l'ho messi ma li sto mettendo sempre e vi faccio vedere questa palettina un po' zuzzetta ma vabbè è della linea mutations di neve che è questa qui la palettina e in realtà gli ombretti sono di più ce ne sono altre due colorazioni però io ci ho messo queste all'interno naturalmente potete capire che questi due colori sono i miei preferiti e sono arrivati giusto giusto in tempo sono abbastanza sicura che questa collezione sia già sul sito di neve quindi potete andare a dare un'occhiata ci sono anche un sacco di pastello le matite bellissime cover del mese sempre da lì express perché naturalmente mi sono arrivati tipo due mesi dopo questa qui che ho su adesso che è molto bella bellissima in realtà mi piace un sacco prima perché ha questa parte trasparente ma protetta e fa vedere la melina poi c'ha queste parti fucsie sfumate topissimo e qui è tipo trasparentino un po' mattificato stupenda e l'altra perché vi voglio far vedere pure questa che ho cercato per anni e quando l'ho trovata anche se penso sia la cosa più costosa una delle cose più costose su Aliexpress perché l'ho pagata quasi 5 euro però li vale tutti cover con il sushi adesso voglio un minuto di silenzio per questa cover è un po' kawaii non è molto nel mio stile però a parte che è fatta benissimo anche all'interno poi questo è il mio sushi preferito quindi proprio nei giri on flick è bellissimo anche questa purtroppo non posso ritrovarvi link sia di quella che vi ho fatto vedere prima sia di questa con il sushi però se scrivete cover sushi penso che ne usciranno a bizzeppe per quanto riguarda la foto del mese non ne ho fatte tantissime perché sono andata molto poco in giro cioè di solito se esco vado a scuola guida o esco con le amiche ma non faccio mai niente di che e mi scordo di fare le foto se uno può scordarsi di fare le foto comunque la mia foto preferita è questa qui che ha tra l'altro un effetto di snap quello con le farfalline gialle che è bellissimo e come vedete come ombretto proprio quello che vi ho fatto vedere prima che mi piace tantissimo e questo giorno stavo girando dei video che trovate qua sul canale quei due e back to school quindi se volete andare a vedere meglio il look com'era andate a vedere i video comunque questa è la foto penso più carina che mi sia fatta in questo periodo poi evento del mese come sapete inizio mese settembre sono partita con Desiree che è la mia migliore amica per chi non mi conoscesse e siamo andate a Londra quattro giorni ho fatto anche i vlog più o meno non ero proprio con questo aspetto ma sì ero sempre io e vi lascio la playlist qua sotto perché non posso mettervela nel link qua informazioni andateli a vedere i vlog perché sono molto divertenti e insomma vi ho portato il più possibile con me in questo viaggio perché sapete che a parte che sono un ricordo per me ma mi fa sempre piacere coinvolgervi nelle cose che faccio per il resto la mia vita è sempre stata mi sveglio vado a scuola guida torno guardo qualcosa sul computer mangio e dormo ecco la vita è entusiasmante ah e a volte faccio qualche video e li monto sì mi ero scuola da questa parte proprio wow uno di questi giorni credo sia stato il 20 forse o il 19 mi sono vista con Giulia perché è andata a farsi le unghiette da la mia praticamente e quindi ci siamo viste poi ieri che era 22 sono andata a fare i tatuaggi perché poi tutto il resto sarà a ottobre e ne parleremo il mese prossimo l'applicazione del mese e qui dan 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 perché in realtà ne avrei da farvene vedere due una è questa qua che non sto sponsorizzando niente cioè ve lo dico già da ora è proprio una cosa che faccio di mia spontanea volontà perché sapete anche qui se mi seguite su snap ma anche su twitter sono un appassionata del grande fratello quest'anno l'hanno fatto VIP quindi capirete il mio entusiasmo anche se diciamo che se mi avete seguito commentando la puntata live perché lo faremo tutti i lunedì c'è il grande fratello vabbè tutti i giorni in grande fratello su twitter quindi seguitemi vi lascio anche il nick qui in particolare così potete andare proprio a seguirmi perché la commentiamo sempre insieme li adoro soprattutto perché c'è bosco e deve vincere comunque e ho scaricato l'applicazione di mediaset perché poi c'è anche mediaset on demand ma questa qui è proprio a parte per vedere i programmi della 5 sul telefono anche quando sono in onda proprio cioè se non avete magari la televisione o il computer potete vedere anche dal telefono canale 5 quindi è secondo me è una cosa figa anche se non l'ho mai provato e soprattutto oddio mi stava cascando il telefono cioè panico un ottimo mi sta venendo un colpo di calore mi vedo la live del grande fratello che è 24 ore su 24 e sempre perché io voglio vedere bosco voglio vedere er dama er figo e er gnocco più gnocco del mondo scusa Giulia è il tuo ragazzo però insomma un apprezzamento si fa sempre anche perché io ho avuto il piacere di conoscere Giulia dal vivo è una ragazza super carina e super disponibile soprattutto nonché bellissima quindi vabbè che vuol dire l'altra applicazione che in realtà volevo citarvi da un po' di tempo perché io sono sempre stata vissata con queste cose un po' astrali sui segni e seguire l'oroscopo eccetera ecco c'è un'applicazione che è super figa che si chiama Astri di Paolo di si di Paolo di Paolo Fox che è questa applicazione qua adesso io cercherò di zoomarvelo il più possibile però è questo mino a chi e sto a chi non lo so io sono toro e sono abbastanza come dire è un segno che cambia molto e quindi mi piace sempre essere super 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 aggiornata se siete fissati con me di oroscopi e come andrà la vostra giornata scaricatela anche voi se volete non lo so sapete quelle cose tipo la mattina vi alzate leggete vi sentite un po' più ah rilassati dipende da cosa dice però più o meno va così ecco questo fa per voi detto ciò il video è finito io spero sempre tanto di tenervi compagnia grazie ancora per tutto quello che fate per i bei messaggi che mi arrivano tutti i giorni e soprattutto perché siamo quasi arrivati ai 120.000 iscritti panico panico e detto ciò ricordatevi di seguirmi su tutti i miei social perché naturalmente è lì che sono più attiva è molto più facile al posto di caricare editare un video quindi li ve li lascio io sempre qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video ciao